Soddisfatto direi di questa partita un grande pescara per 60 minuti? Assolutamente soddisfatto, come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra. Prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3-0 per noi, quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3-0 già nel primo tempo, però al di là delle battute o delle sensazioni personali una partita così penso che sia da incorniciare perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che al cospetto di una squadra che è arrivata a seconda in campionato, che si giocherà la Champions facendo veramente i 60 minuti, anche 65, ad altissimi livelli. Simone Pepe è un nuovo giocatore del pescara, quindi è venuto a pescara oggi pomeriggio, abbiamo fatto il contratto domani farà le visite che saranno una formalità e poi si aggregerà alla squadra. Una situazione di centroavanti, oggi è arrivato anche buyback da Parigi, quindi diciamo che siamo già a buon punto perché poi noi parliamo sempre di quelli che mancano, ma a vedere una squadra così, poi dobbiamo pure capire dove li facciamo giocare quelli che arrivano, perché noi giocano in 11 e abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora e quindi abbiamo Muricci che è arrivato, che in questa settimana verrà tesserato, abbiamo già tanti giocatori e dobbiamo fare quelli che servono, non per portare il numero. E Grassi ne ha parlato con il Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa, su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del pescara e il giocatore poi deciderà dove andare. Vedete, lo spot di questa sera serve anche a questo, una partita così come questa. Se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli probabilmente anche i giocatori che devono venire a pescara ci pensano 4 volte. Invece vedere una squadra così, che gioca molto bene, che ha giocato ad armi pari con il Napoli probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a pescara.